Potendo scegliere la nazionalità, in Europa quella norvegese è certamente più favorevole alle donne. Lo si evince dagli studi e dai dati pubblicati dall'Ocse in occasione della giornata mondiale della donna. Non soltanto infatti dopo la gravidanza, le norvegesi che lo desiderino possono tornare al lavoro dopo nove settimane dal parto, con la certezza di avere nidi e successivamente scuole materne adeguati nelle vicinanze. In Calabria non ci sono neanche quelle. Gli uomini norvegesi aiutano in casa le loro compagne per tre ore al giorno, contro l'ora virgola sette dei maschi nostrani e i 45 minuti dei sudcoreani. Le donne con passaporto norvegese possono starsene davanti alla tv o ciarlare con gli amici per sei ore al giorno, più che in qualsiasi altro paese Ocse. In Italia gli svaghi muliebri sono due ore in meno al di a fronte di uomini italici che si allungano sul divano, sollevano pesi in palestra o si siedono al bar, in media cinque ore su ventiquattro. Grazie alle quote rosa introdotte nel 2006 in Norvegia, il numero di donne in posizioni direttive è salito al 40%, mentre Germania e Giappone non raggiungono il 5. Da questo punto di vista ha fatto meglio l'Italia, dove la percentuale si attesta sul 7%. Ebbene ricordare che i norvegesi, come gli svedesi, molti secoli fa erano considerati barbari e poco civilizzati. Ma il tema delle quote rosa elettive è molto dibattuto in Europa. Tuttavia sono diverse le soluzioni adottate dagli stati membri. In Francia, Belgio e Spagna si è intervenuti con legge stabilendo quote riservate nelle elezioni e per la presentazione delle liste. In altri paesi, fra cui quelli scandinavi, ma anche Germania e Regno Unito, la questione è stata invece affrontata all'interno degli statuti dei singoli partiti politici. In Francia i partiti che non ottemperano alla legge vengono penalizzati con una decurtazione massima del 50% sul contributo elettorale ricevuto dallo Stato. Nel 2007 Madrid ha approvato una legge sulle quote rosa nelle elezioni. Nessun sesso può superare il 60%. A ben vedere dunque, dopo il patetico spettacolo offerto ieri alla Camera con la bocciatura bipartisan delle quote rosa, è sempre più netta la percezione che siamo lontani dal resto d'Europa e che forse non meritiamo di esserci per svariati motivi. Siamo l'ultima ruota del carro anche in questo. Ma ciò che spaventa, o se volete che fa sorridere, è che la bocciatura è arrivata dai due maggiori partiti, l'uno di maggioranza e l'altro di opposizione. Dovremmo trarne le dovute conseguenze. Il problema in questo caso non è di Renzi o del governo Renzi. La politica è ancora sotto il dominio maschilista, comprese poltrone e potere. Se di Berlusconi, sull'argomento ne conosciamo bene il pensiero, le opere e le azioni, ci sorprende il Partito Democratico che nel segreto dell'urna sull'argomento si è diviso. A dimostrazione del fatto che le battaglie ideali sulla parità dei diritti valgono quanto l'asso di bastone e che la Camera dei Deputati, declinata al femminile, rimane saldamente nelle mani dei padroni di turno.